Ciao a tutti, sono Chiara Mare Visintin, ho 20 anni, studio alla Facoltà di Scienze Tecniche Psicologiche dell'Università e Campus, sono una ginnasta, ormai da 16 anni pratico ginnastica ritmica, lo faccio a livello agonistico, quindi faccio le gare e sono anche un'allenatrice, seguo un gruppo pre-agonistico e un gruppo agonistico nella mia società e sono anche una modella, adoro fare shooting e sfilate di qualunque tipo e come potete immaginare ho veramente pochissimo tempo libero, però amo la mia vita frenetica perché non mi permette di annoiarmi, non c'è un momento in cui sono ferma e questa in realtà mi piace, mi piace perché adoro fare tutto quello che faccio, lo faccio sempre con l'impegno, con la passione e soprattutto col sorriso. Lavoro nel campo della moda ormai da 5 anni circa e devo ringraziare la ginnastica ritmica che mi ha dato le basi di eleganza e portamento necessari per essere una modella, quindi volevo farvi vedere come sfilo. In questo settore preferisco sicuramente di più fare sfilate, come ad esempio le tre Fashion Week a cui ho partecipato, però anche negli shooting mi impegno moltissimo e mi piace sfidare i miei limiti soprattutto per quanto riguarda l'espressività e la creatività, aspetti fondamentali anche del mio sport. La ginnastica ritmica la porto sempre con me, in palestra, alle gare e in vacanza. È parte di me e forse è la cosa che più mi distingo in assoluto. Questo è tutto quello che sono e che più mi rappresenta. Devo ringraziare la più bella d'Italia per avermi dato l'opportunità di potervelo mostrare. E adesso... Torno a studiare!